Roberto Zammarini Siamo pronti per fare una grande partita Quanta carica vi ha dato la bella vittoria sull'Arsigliano? Sicuramente dopo qualche prestazione magari sotto tono o senza il bottino pieno è arrivata una bella vittoria in casa e siamo contenti che anche comunque per affrontare la settimana l'ambiente così ci aiuta a preparare meglio la partita che arriverà lunedì Il Pordenone è primo insieme a Novari, è un girone equilibratissimo Come giudichi questo inizio di stagione del Pordenone in generale? No, questo inizio di stagione può essere solo che positivo Sappiamo che comunque tutte le partite sono difficili, è un girone molto complicato abbiamo visto che comunque tutti possono vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti quindi siamo contenti di come stiamo andando ma non abbiamo ancora fatto niente e dobbiamo continuare così Sette partite, sempre titolare, sempre fra i migliori hai giocato in tre, forse quattro, diversi possiamo dire che ti è mancato solo il gol? Sì, dai, diciamo che è mancato solo il gol ma sono molto contento comunque perché di dare una mano alla squadra per me delle volte vale magari di più di un gol o di fare un assist quindi sono contento, spero di continuare a dare una mano alla squadra Sei fra i senatori di questo Pordenone, ti senti questa responsabilità? Sì, dai, diciamo che insieme a tre o quattro ci sentiamo magari un po' di più un po' di responsabilità però comunque i nuovi arrivati o anche quelli che erano qua l'anno scorso si sentono tutti la maglia addosso Che mantova ti aspetta? Ma sicuramente mi aspetto un mantova tosto che vorrà portare a casa punti però noi sappiamo che è difficile, andremo là con la mentalità giusta di fare la nostra partita e sicuramente sarà una bella partita e speriamo di portare a casa tre punti Al Mertelli, l'abbiamo tenuta per ultima ma non per importanza sei cresciuto, hai esordito tre professionisti, hai avuto i tuoi primi anni da calciatore vero tra virgolette, hai avuto Juric come primo forse maestro che ricordi hai e che emozione sarà per te tornare a casa? Sicuramente sarà un'emozione forte e bella perché comunque Mantova è stata per dieci anni la mia seconda casa e sono molto contento di ritrovare, di andare là per salutare alcuni amici che sono ancora nel Mantova Per quanto riguarda Juric è stato per me molto importante, mi ha fatto esordire tre professionisti e si vedeva già le qualità che aveva, che sarebbe stato un grande allenatore e niente, torno là molto volentieri Arrivasse proprio lunedì il tuo primo gol stagionale? Non esulto Però speriamo di farlo Però speriamo di farlo, sì, assolutamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti